Hello guys welcome to this our new vlog today is a special video that I want to say thanks a lot to all the people that subscribe in our channel because we have seven thousand five hundred fifty seven subscribers. Voglio parlare anche in italiano perché voglio ringraziare tutti gli amici di Telegram del gruppo Telegram che sono Pietro Puglieri, Ausilia, Agostino Emanuele, Andrea Metaldetektor alla ricerca e la verità, i viaggi di Columbus e Antonio Lavoccio fuoricampo questi sono quelli che ci hanno dato una spinta in più al canale questi mesi e questo mese da quando siamo in Telegram e quindi il nostro canale è diventato più più attivo perché il problema con i nostri contenuti è che non avevamo persone come voi molto attive e ci supportate tantissimo quindi quasi mi sto commuovendo perché il mio canale che ha tanti iscritti ma il problema è che non avevo commenti avevo dei video virali da 3 milioni di visite ma c'erano solo haters nel mio canale cioè avevo un sacco di commenti brutti quindi per colpa di questo mi hanno anche tolto la monetizzazione. telegram. Quindi ora parlo in inglese quindi ringrazio tutte le persone di Telegram e ho detto che nel nostro canale abbiamo un problema che abbiamo anche un video viral ma molti haters quindi hanno stoppito la monetizzazione perché troppo buoni commenti. adesso parlo in italiano quindi vogliamo fare questo giveaways cioè è come se vogliamo fare una lotteria. How to say in inglese? Giveaways. What is giveaways? It's like he's having some little games. Quindi facciamo un gioco. Then the giveaways must have of course something gift. So quindi dobbiamo preparare un regalo. Either we are choosing what kind of giveaways that we are going to share to you guys. Quindi stiamo scegliendo qual è il regalo e we are thinking money. I don't think so. So you know we can ask also for our subscriber what they can suggest. Allora the rules we must say cioè le regole del gioco sono che voi dovete commentare sotto questo video e iscrivervi se non siete iscritti. So you must subscribe to this video and comment. I participate to the giveaway. No? In italiano partecipo al giveaway. Quindi noi prendiamo un numerino cioè we take the number, connect to the name of the comments, then we put all in the papers, cioè li mettiamo in piccoli, li scriviamo nelle piccole letterine, poi li mettiamo in un bicchiere, cioè we put in a pot all the numbers and then in our zone, kesco, we will choose. So someone will win. And we are thinking what is the giveaway. Cioè stiamo, K1, qual è il migliore regalo? Per me il migliore è tipo put money in PayPal, 1000 pesos, like this, 20 dollars. Cioè così, no? Il primo, praticamente il primo mese della monetizzazione. Sì. 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 So in some country, you know, like here in Philippines, if you are our subscriber from Philippines, usually we are not using much PayPal. I know that. So you must to put in the comment from your name and from which country are you from. So we must understand, if you decide to share money, what we must use, Gcash or PayPal. Yes, because here most is Gcash. All this new Venmo. It's called Venmo. If you apply on Venmo, you can have money free, like 10 dollars just when you apply in this Venmo. And then you can share also money to your friends from every country. Ok? This is the new Venmo. In every country work, also in Philippines. It's the new one. So maybe we use Venmo. So the rules are you comment, you subscribe and you thumb up this video and you write I participate on the giveaway. So thank you so much. We are very excited for these new games in our channel. He's excited. Yes. Because everything new ideas make me have a lot of good feeling. Good feeling. Because we go, maybe we find new friends. Because YouTube is also good for finding new friends. So thank you so much. Ciao. Ciao, ciao. 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 Grazie.